Buongiorno, come è il signor Mimmo Catapano? Sì, attualmente è uno dei camerieri più stimati di Fraga, così dicono in giro. Ma posso chiederle, ma perché lei viene a lavorare in giacca e con una 24 ore in un ristorante? Beh, perché io sono il presidente e ho fondato una fondazione della piccola imprenditoria giovanile. E posso chiederle in cosa consiste? Questo lo stiamo ancora studiando, però per ulteriori dettagli aggiorneremo in corso in via internet e in diretta tv cieca. Va bene, la ringrazio. Prego, di niente.